Siamo tutti responsabili e se esistono aziende agricole virtuose vuol dire che tutte le aziende agricole possono diventarlo, possono esserlo e se non lo sono possono diventarlo. L'impegno di tutti deve essere quello di vigilare che non siamo. Questa è una terra di migranti, le guerre di civiltà si vincono insieme, tutti uniti perché nessuno può farcela da solo né si può avere la presunzione e la superbia di potercela fare da soli. E' per questo che come sindaco di questa città sento di dover dire e poter dire che Latina non si sotterrà all'impegno di essere in prima linea in questa battaglia.